posto vai 32.000 sarà molto molto divertente già lo so molto 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 argettino ragazzi siamo su ponte perché sennò si mettiamo il tetto prende i zombie giù non dovete stare dove ci sta il coso ragazzi ma chi è che fa le scale così chi ha fatto tutte le scale per salire chi? stanno salendo tutti i zombie rega non dovete fare le cazzo di scale per la gare infatti sono stati tutti i zombie domenica no 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 va bene però ragazzi non va bene proprio per un cazzo eh rotto tutto ero saltato come l'hiss come l'hiss cura scura 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 ma la user per te stesso la bocca eh ma vieni a cura normale tra tranquillo l'ora non ti agitare però tranquillo Palle sto gioco Oh il Ted Ma che cazzo fa il Ted Ma il Ted di focus e remedi che poi focus e gli altri Ma what E' normale C'abbiamo Ted Quello lì Gili tazzina Ma a sto punto è migliore di gili tazzina Perché se no cambia molto target Eh lo so Comunque niente Ognuno si mette in un lato E spariamo Basta Ma perché se mette a sparare gli zombie Perché ci avevamo gili tazzina Abbiamo sbagliato a metterla No io non l'ho messo Ah allora è meglio Come cazzo fa a sparare i zombie E' impossibile E di fronte ai miei dico Sparare qua di sotto Ma Tutto ubriaco il Ted Ma quando sta la vita Devo mi pagare un'arma Ma sto senza l'arma Eh sta ancora una tacchetta Sta un pezzettino della tacchetta tolta Non li fa gusta Vado mi fa pulizia di zombie Eh li puoi fare pulizia Eh però come se fanno pulizia Se vede la vita che scende poi Mi ha scordato che si prende pure il danno Dalla duda qua C'ho la vita che scende? No Non ti colpisce il 2 di mezzo 2 Devi tipo sparare lontano Perché se no poi gli Perché hai detto Ma c'hai lì la fra Ma perché devi fare Vabbè In mezzo per la mia Era una domanda No no Te amo di bocca Oh Io posso dicire i tazzini Ho messo cosa là Eh Ehm Ti senti bo Non devo morire Noo sono molto alla fine Ah Oh vieni ma coda Perché mi stai spavando con lì la macchina No perché do che la re i miei zombie No vieni ma coda Ah me già lo stai spavando al re No no Un'ora ogni volta Scatto davanti me l'ha fatto su lei Eh va giù ma ci vuole tempo a toccare Eh va giù ma ci vuole tempo a toccare Lasciamiche Eh no C'è fatto che devi coltire il mitico No adesso Sempre a te Ma perché è qua di sotto Sto cosa di me Perché la devi mettere sopra Se lo metti sotto Dove stanno i zombie Grazie al cazzo Ma io non metto sopra Sotto Ma non si può mettere in testa Ma io ho finito già mazzo Ma 5k ho spiegato fra un po' Ho messo di massimo di ferro Eh vabbè Sembra che è la vabbè Ok bel gioco GG Guarda il teddy È di fronte al re mitico È di fronte al re mitico Sta comunque colpendo i zombie Vabbè Eh perché dobbiamo metterlo sopra Non sotto A me mitico stai spavando Ho capito I mosti della nebbia Spavando i mosti della nebbia È Ted Ma davvero Spavando i mosti della nebbia Perciò eh Quindi dobbene Raga io ho 500 di mazzo Qualcuno un po' di mazzo Anche io Matte Eh là c'è bisogno di farmar Magari Io aspetto la cassa di rifondimenti Che manca 20 secondi A quando sta Dividere mille Tra Cos'è fatta una tacchetta Mila collina Come si la aggaffete quando vestita ponetemi così la aggare oltre Niente rega io c'ho 200 rimasti c'ho Io direi che usiamo l'attacco aereo per ciascuno Dove? Ma eh io c'ho una cassa di rifondimenti per fermare Ma non devi utilizzare i gadget Madonna Restate Oh vabbè Non voglio Occhio Lore occhio Stai spavendo te mi dico il mio tempo Chi la prima cosa Lore ma che cazzo stai facendo Devo mettere l'ira Che cazzo me ne fotte l'ira Fra minchia bastava che mettevi un tè di qualsiasi cosa Non c'è l'impatto sismico allora Non ce l'hai veramente Ma è il pugno L'impatto sismico Quale cazzo è? Quello là Fra L1 R2 Pugno Raga dovete fare i ponti però Non posso farlo solo io Ma ti stai direi che lo sto babbattando E niente E niente Oh sempre a farmi cadere Dio mio Ah vabbè Raga Non ammatti Oh Pugno Pugno No te ma tu pensi a farlo E' difficile Raga di una città Molto Dino Ma metti il barone Grazie a mano Perciò tu muori Loro Ma non stai parlando più l'ora Eh stavo mutato mamma mia Sto parlando da mutato Ma io sto largando cura Guardi ma che cazzo Fino potete curare Ho finito mazzio Far male fra come sto facendo io Ehm Ah che pale ragazzi Farmi le regi Ehm Ehm Sono buono Buono Ehm E niente Da capo Madorni che scocciatura Uuuuuh Mi hanno babbattato Ma che vieni a buttare qua Fudo Ma li botto io Fatevi avvicino Fatevi avvicino Udi babbo eh Che cazzo Guarda avvicinate a me A me sto babbattando Ma piano piano il danno c'è Quello si Ma faccio le 5.000 Ma faccio le 5.000 Siamo vicini Quando potete fare una botta Qualcosa Si raga evitate di morire Per ogni volta Cioè Ma quando mai l'ho detto Ma quando mai A inizio A inizio Io non l'ho mai detto Io ce li ho i gadget E' vero Tutto tu non ce li hai Ma io ho messo Che cazzo Perché ti dite una cosa E poi ti dite un'altra Dai ma che cazzo Fra c'ho la clip Porca di quella puttana O Cioè ma vedi perché Tu sei così sei Questo è il fatto Non ho messo i gadget Ora secondo te Se ce li avevo già i gadget Minchiava Ogni volta Arrivi sempre farà la cosa O perché magari Mi avrà detto qualcuno Certo ma te l'avevano detto No Si possono usare L'ha detto Ok Tengo per esempio Abbiamo questo botto Attaccare Però l'attaccare La vita finale Non devo usare Ma già è impossibile Sta già Difficile Sicurati senza Botta E comunque Se la facciamo Senza botto Sto mettendo le pietane Madonna Non c'è il tetico E farlo colpire Dal re mitico Di boxare il teddy Cioè gli devi coprire La faccia Perché colpi Decisamente davanti Così Ma che cazzo Sono morto Domenico Devi andare in giro Per la mappa Ok A bordo E devi farmarli E poi ti avvicini Ogni 40 secondi A mettere il teddy Su Ce la puoi fare Non so che ce la posso fare Sono morto E allora Nemmeno una Dovremmo morire Invece moriamo comunque Restatemi La botta No dai Un attimo Non vedi Mi stanno bombardando Non ce l'ho Già curato Con la botta Ma te c'è Da so non ti guardare Non so cosa Eh va bene Mi stanno bombardando Aspetta Ma non c'è una cosa Come la c'è Ma non c'è una cosa Come la c'è Ma non c'è una cosa Come la c'è una cosa No ho detto già Non ce l'ho Ok Dovete dare Per un attimo Solo devo buttare Un attimo Una cosa Che mi sei lì Ma ti resta Farmando Secondo Ogni 6 minuti Con la cassa Ma come c'è la Fu il corazza No Corazza Uno solo Anche la stessa cosa Io do Vabbè ti crafto Il mio con due Dai Eh però Non tropparmi Un attimo Un attimo Ma è te Ma è te Ti fanno Non è mitico Ti fanno Eh ma se lo metti così Devi fare il ponte Sennò così Te lo fa cadere E lo streghi solo Dai dai Cerca di morire Più o meno Ma in questi casi Vieni da me Vieni da me Tieni Ma questo Ce l'ha con me Ogni volta Che salgo sul ponte Me lo lasera Vai signor Ted Vai Guarda Guarda Nooo Ho sbagliato Resta mia Ma sono il mio tente Stai spavendo del mitico Non puoi dire No no Tutti Tutti Però non è che fa Vabbè Hour Hour Becca il raggio Gigi per hour Fammi il balone Fammi il balone Ma questa è il balone che cazzo No io non ho parole veramente Non ho pochie parole fra Sta giocando di merda sta giocando No non va bene un cazzo non va bene fra Fra ma io sto venendo da te per farmi dare il balone Ma se te l'ho troppato là Te l'ho pure pingato fra ma che cazzo vuoi oh Te l'ho pure pingato ma vabbè va 10 minuti e 50 minuti nel mitico challenge A quando sta la vita c'è due tacche a meno Fra allora tu Domenico ha rotto anche te il cazzo Ti prendi l'ira Ti prendi la cazzo di ira ok Te la metti in mano e miri E poi la togli Ci riesce o non ci riesce Eh Sì sì lo metto Ma lo metto Ok qua sono due tacche L'abbiamo tolto Ah 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 Certo Ah 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 matti a terra ogni volta che l'ho guarda che non sono vita ma sarei morto venti volti storie milico ma sai ogni volta che devo curare qualcuno viene taker pistoleri ero pavaria ma rivedi smasheri sismesce ricordi se ti senti rimanendo questa è venuto prega niente a me fra me vogliamo pure padre madre niente a riservi giocare mi dico non è che che sei molto minimo di morte sei morto cioè ma dio mio dopo devo andare a farmi dare mazza ma usare mi dico finalmente e almeno sono volendo la mezza del farming quello c'ha fatto i po 5 mila di tutti i mazzi ma chi tu guarda te ti senti da parlare mamma mia sembra dei cazzo di bimbi dell'asilo nito basta o non incominciare o madonna non incominciare ha rotto il cazzo ma non importa che io dico una cosa giusta pure tutta la pico me rotto pure tu il cazzo attire per te fra io te lo dico stai rischiando a te io te lo dico massimi un attimo king glory sarebbe i pezzi sono morti sono morti vai teddi spada spada dei miti contetti spada dei miti spada dei miti non ti mette spada di zoni a metà vita è proprio tu vai metà vita bello matti se finimo portiamo la cassa di rifallimenti spada è l'unica scienza che abbiamo per farmare farà la re mitico tanti di merda confine aspetta eh macchia eh macchia eh macchia di cui veramente senza macchia è critico proviamo quei poveri ma sta clip di quando tu da seconda minuti io già me lo vedo domenico calma bisogna mettere a cassa di fornimento perchè non ha macchia raggio baggato raggio baggato gg ma vivo matti guaggi matti guaggiati matti guaggiati matti guaggiati matti guaggiati fuori safe così ti toco la cassa di rifornimento vado a premare vai vai cassa dai me non mi dà metà vita va giù a me non mi dà 150 di tutto ora mi spiegate chi c'ha le perona a 130 io ce l'ho a 144 ma mi ha messo quella 130 da solo aspetta cambia c'è uno stack 130 ecco eccole con il mondo io decilo da progetto quando me le fammi matti e io ci sono e qua stiamo ancora nel re sempre quel re metà vita manca contavito dai ma qua la vera molto 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 dura vabbè dai siamo meno della metà vita quanto viene è un'ora di grip ma una viola stendente faggio madonna nooo diretta tipo la revolver buch si mi dico bene bene ancora c'è un bel po' di mazzo ne ho io ho 86 mazzo io quasi 700 ne ho ah buongiorno e più ne avevo nemmeno 200 ma è teddi spara al re bravissimo bravo teddy ma il tuo teddi lo stai portando al re che cazzo dici si il mio teddi si sta sulla scala dove stai guarda tu vai giù vai 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 uo minchia teddi ma la vedi la vita domini si si ha un attacco e mezzo eh bravo se lo possiamo fare se aspetto che si dici vai minchia quanti max eh io ho sbagliato comunque sul attacco ero beccato volevo mettere anche io al cosa quanti max hai vai che si aspetta nooo il volto che salgo raga mi sembra tipo senti mazzo non posso più far male ma ti siete pulito tutt'è niente son morto eh mancano poche cose e tutto distrutto no no ancora un po' ci stanno ancora un po' ci stanno io ho 8 minuti non posso più spadare coltello però perchè? non posso costruire eh usare pelane degli altri hour hour oh ma ce la fa boh vabbè oh è che urli un attimo mamma mia ho capito fai avanti e indietro fai fra ma ce la fai no raga ma cari mi fa calcare le pedane riuscivo a curarmi eh mamma mia mattino l'ora è l'ora è l'ora per fote scendo mazzo l'ora quello che puoi non posso più vado vado a me lì a terra l'ora ti è vado a me lì a terra l'ora mi mink mi fa mu 투 ho tento l'ora credo che sia la più lunga che abbia mai fatto non è che ce l'ho messo così tanto non ci credo me la messa di non ci credo sbosta botta botta ma non è un po' di domanda l'ho stata sonora lo subito e chi la ricordi che cazzo dice l'ho proprio morto c'è non è che non ti provo in tutto il re se non voglio darmi non è un pregato però ben setembre tutti non mi restate Sto avvenendo, sto avvenendo Niente hour che se ne va via Boh vabbè Dove tu stai? Ma ti avvicini Ok Vai Teddy fai il tuo dovere Vai Teddy Mi hanno tirato la tacchetta Io ci credo No io non ci credo Ma io non ci credo Ah io ci credo Tira una botta Attimo che è morto 99 volte Eh Pure Domenico Domenico? Ma te tu mi devi dare la botta Ma dove andando quella? Niente hour non so dove sia Vengo io vengo io Hora sto dormendo a piedi Te la botta a domenico Ma te botta Ah quanti teiker Vai data vai Vai manca poco Da tacchetta Dai forza forza Eh fai ma non è molto potente non ho durato almeno una mezzola ma pure di più ma posso ciò quei pomodori buoni quelli che ci piacciono a noi ah i cosi come si chiamano aspetta quelli piccolini ok ho capito bene no dai se mi viene a pronti ah tipo la la caprese ok è la sfida più difficile che abbiamo fatto dopo la rai devo domandare le danza un modo di così no mi piace non mi piace non mi piace un modo di un affatto ma guarda affatto ma guarda non mostro settino di vita ma fra ma ancora c'è metà metà tacchetta fra la tacchetta guarda che può succedere ancora tutto facciamo quello che abbiamo sempre fatto a posto la casa non lo riusciamo a vincere e invece da qua primo tentativo guarda che siamo guarda che siamo che cambiamo dei cassini di fondimento nemmeno i zingali usano le cassini di fondimento mettete i tetti vai tutti fate un mattino skype's grande e mettete i tetti se lo mettete a terra se lo vede va bene va bene beh oh quanto è fatto male sto gioco però è dio mio si è fatto male oddio ci so più un meteore che è dio canna no sto clippando cazzo me la rega vai vai tetti ma io tetti da che sono fai lo fa 50 mila ecco quando fa vado però è in mezzo della notte lo vado giù c'entro insomma insomma c'è il ponte e me lo spaccano faccio il ponte e me lo spaccano faccio il ponte e me lo spaccano da mezz'ora che è così mattia ha due tetti si è poccato mi ha dato due tetti di filo mi risponcio eh penso il frammento magari no manca uno spurto manca uno spurto piccoliamolo aaa si fa mente mamma mia ho questa challenge veramente 50 minuti su e io sono fatti nel mitico cambiamo di casse di rifornimento attenzione ragazzi c'è una B2 a 36 ma ti pensa che con le casse mi sono fatto uno sacco di B2 a 36 e Gigi vediamo quanto è durata 29 minuti e 37 secondi mi aspettavo di più mi aspettavo di più siamo primi a un mondo ragazzi si si Gigi mamma mia mamma mia mamma mia no te comunque dimmi sempre vabbè no basta oh non incominciate stai zitto domenico domenico basta madonna mia certo ma stai zitto ma stai zitto ma stai zitto